Il camp è un'esperienza fantastica, un'esperienza sociale fantastica perché ci sono 50 ragazzi che arrivano da orizzonti totalmente differenti e che attraverso alcune poche e semplici regole devono cercare di strutturare delle relazioni che gli permettono innanzitutto di convivere insieme e poi in seconda battuta di poter affrontare delle attività sportive di squadra durante l'arco della settimana. L'organizzazione di questo camp è una bellissima sfida che facciamo ormai con Diego da dieci anni e ci dà tantissima soddisfazione e che paga tantissimo il lavoro che facciamo prima che non è poco ma è una bellissima cosa vedere come piano piano passano i giorni e cominciano un po' a sbloccarsi e a scherzare fra loro, veramente è una cosa molto molto soddisfattente. Un'altra settimana che finisce del mio bancario Ruggy Camp, terzo anno consecutivo, un altro gruppo, 59 ragazzi che abbiamo conosciuto di tutta Italia che sono venuti qua a divertirsi, a imparare, a sentire parole diverse che si porteranno a casa per poter utilizzare un po' come modello tutte le cose che loro fanno. Questo camp per me è stata una grandissima esperienza perché comunque era indirizzato al rugby che è lo sport che preferisco. Mi è piaciuto molto perché l'insegnamento con rugby è anche abbastanza di alti livelli. C'erano altri sport come calcio, ultimamente che sarebbe frisbee. Si ha la possibilità di conoscere tantissimi ragazzi che hanno la sua stessa passione e questa è una cosa bellissima secondo me. Ci sono state partite tranquille nel senso che non contava il risultato nella classifica però comunque c'è stata anche la competizione quindi c'era sempre qualcosa da fare in più per la squadra. È un'esperienza che merita di essere vissuta secondo me. E anche ho conosciuto veramente gente simpatica. Passare del tempo con loro è stata veramente una bella esperienza. Sai queste sono cose, sono iniziative molto belle per loro. È una possibilità enorme, questa possibilità che hanno di venire qua e passare una settimana con noi sarà indimenticabile per loro. Sarà il discorso a tavola per tutte le state. Ci abbiamo un po' delle lettere dei genitori che ci mandano, hanno parlato tutte le state di questo camp. Loro se lo portano in testa, hanno fatto 49, ognuno ha fatto 49 nuovi amici. Questa è la cosa bella. L'essenza di questo camp è che loro imparino a essere solidari con i compagni, imparino un po' di disciplina, imparino un po' di umiltà e imparano a fare sport. E a sapere che per fare sport bisogna avere un minimo di cura di se stesso per poter divertirsi. Allora io sono molto contento di dare questa settimana, questo tempo per questo camp, per questi giovani e per tutte le future generazioni. Così giorno e domani avremo una generazione, una cultura sportiva ancora più forte di quella che adesso. E a sapere che quello nei rifiutti działali con i compagni, imparino un po' di affid Committee of the changing willed è i bisogni i compagni fool sopra anzioni e ritrovaippi vanno in tutti questi tempi! Grazie a tutti.